Provocheranno suono, i delfini percepiranno il suono e si apprezzeranno a venire qui dove siamo noi. Cioè i target hanno anche questa funzione. A livello destitutivo può essere considerato pure il prolungamento del braccio. I delfini sono qui. Dal secchio viene preso il pesciolino, il pesce è il rinforzo primario, la cosa più importante. Vi ricordate, parlavo prima di stimoli positivi, lo stimolo positivo per eccellenza. Vi mettete qui davanti, alzate le braccia e muovete le mani. Bravissimo, bravissimo, bravissimi, bravissimi, bravissimi. E applauso per i delfini e per il pancerino della merda. Ma non è finita, non è finita. Eh, dove fai? Eh, facciate anche tu. Che squadra tieni? Stai attento a quello che dici. Anche tu il mila. Bello. Ma tutto il mila, stai attento a quello.